Oggi iniziamo, ah, la seconda mappa di Roblox, mi son fatto mai al dente, eh? Ah, mi sono fatto mai al dente di misi anni Allora, eh, perché sono da solo? Fate play, fate play, fate play, fate play Oh, che era uscita Allora, sta cosa comunque, interferenza, dice il signore, il cane qua, uff Vabbè, facciamo skip, se no poi dopo qua ci annoiamo, non ho voglia di annoiarmi Cosa? Ah, non ce l'ho Ma sei cretino? No, io veramente, ma scusate, ma, cioè, è possibile essere così cretini rincon... Ah, ma io ti ho detto che tu ero, vado a togliere Stai zitto, stai Pure tu, eh, pure tu, questo... Ah, adesso sono di nuovo io bene, Angelo, adesso mi vendico Adesso mi vendico, no, non mi interessa più Sì, 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 che hai fatto... Eh, cos'è successo? Il mio gatto è tutto scemo Eh, sì, devi aspettare Devo dormire per dieci secondi Muoviti Ah, sì, fate skip, fate skip, perché se no... Allora, io ti seguo a te perché non so come si gioca, eh Allora, prima di tutto parlate bene, poi, dopo, se... Ah, 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 vieni qua, vieni qua, brutto schifo Topolino No Angelito, Angelito Adesso sarei... No Allora, se tu riesci puoi liberare Chiara, comunque, perché in questo gioco si può liberare Chiara Nel caso non lo sapessi, sì, sì, sì Devi trovare l'oggetto Sì, un cosino Guardate quanto è bella questa casa No, non può vederti, non può vederti Chiara Comunque io mi sono compenetrato con le pareti e lo sto continuando a fare, quindi non è bello Questa cosa, aiuto Ok, eccoti, no Cos'ha? Eh, 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 brutto topino Stai là, non osare mai più uscire Hai capito? Hai capito? Non osare mai più uscire Ah, ah Esattamente, proprio così, brutto topino, schifoso Io ho visto qualcuno, ma non è che vorrei dire qualcosa perché potrebbe essere che io mi sia confuso Oppure no, perché per forza non mi sono confuso Eh, beh, 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 mi spiace, Angelo Eau Angelo, però No, si può dire, si può dire Allora, andiamo su E cerchiamo questo, questo Angelo perché se no, no, non può vivere, cioè nel senso non può Non può, non può, non può Come faccio a buttare le cose, raga? Cu No, cu, lo dici a tua so... no, vabbè, scherzo Allora Ecco, sì, sembrava qualcos'altro, uffa Allora, dove, dove è finito? Non ho visto il demissone Dov'è che mi hai visto, sentiamo? Molto vicino Ma... Molto vicino Ehi, allora Quel nome ha un senso Pensate Cioè Spiega del Dioniziani Eh, Denis Anima Chiare, chiare, vieni, vieni Vuol dire questo Vuol dire questo Ah, mi sono addormentato perché il mio gatto è stupido No, no, posso dire, puoi tirare due cose in mano Ok, ok, ok Ma chi state dicendo? Ma allora, voi state comunicando fra di voi, ma sapete che questa... Sapete... Mi ha fatto inutile Hai liberato Chiara? Sì L'ha detto Chiarei, Chiarei Ah, e non avevo sentito, allora, e allora dove siete perché non è che potete completare il gioco, eh, ok mi sa che siete sopra, eh, 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 no non è vero, ah, 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 brutto schifo, sì, vieni qua, che schifo che fate, no, 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 e no, vi punisco, vi punisco bannandovi da TS e togliendovi dai video, basta. Eh, cosa sta dicendo? Sì, sei Sailor Moon, hai qualche problema in contrario? No, tu dico, tu sei Sailor Moon, no, oltre, abbiamo due cose totalmente diverse, non servono a niente, ah, che schifo, che schifo, che continuano a scappare questi topini schifosi, vieni qua, perché fai schifo, cioè, no, vabbè, scherzo, però, insomma, anche Angelo in effetti fa sempre schifo, quindi, ah, esatto, in testa, Angelo adesso ti devi far prendere, se no, se no poi dopo mi arrabbio, no, scherzo, no, solo, solo se te lo dirò per davvero, ah, solo se me lo dici per davvero, eh, liberami, liberami, no, non liberarla perché, non trovo più il coso, il cazzarie, il coso, capito, no? Dai, tieni, tieni le botte in testa Dai, dai, mi sto so Eh, ah, 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 ma vieni qua, dove, allora No, vado via, vado dall'altro lato Aha, vieni, sì, no, che schifo, dai, per favore Vai, scappa No, ma state scherzando Ma, sì, cioè, è stupida, è stupido, è stupido perché la sta liberando e adesso la riprenderò io, la riprenderò, la riprenderò Sì, eccola qua, eccola qua, è praticamente qua, non è possibile, non è possibile, io sono praticamente qua Oh, oh, perfetto Dai, però Ebbè, no, mi sono addormentato per dieci secondi Ah, stigato, Dennis Ehi, allora, come ti permetti prima di tutto? Non ti permetto No, non ti puoi permettere, perché non ti do il permesso Io vado a prendere la sola, il permesso Ah, e chi te lo dà? Chi te lo dà, sentiamo Eeeh Giangiuberto? Allora, non nominiamo persone che non c'entrano con il video, grazie Ma Ecco, per questo, perché lag, perché fai schifo i lag, Angelo, nel gioco Come laggo? Laggo? Ti ho visto da una parte e poi dopo sei scomparso dall'altra E Ah, sono Goku Eh, sì Sei Goku Allora Duniziani, potete, potrete sentire la mia frustrazione in questo momento Non Intanto mi sta, mi sta sflesciando il display, non so perché Sei io, sei io, sei io Sai tu? Cos'è che sai tu? Eh? Cosa sai tu? Non sai niente? Allora Parla in italiano per favore, grazie Sono io La scemenza, esatto, la scemenza Allora, sì, però io mi sto un po' annoiando ad andare in giro e a prendervi Quindi adesso, quindi adesso è, 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 sta diventando un po' l'ora, è, sta diventando l'ora No, niente ora, niente ora Sì, sì, sta diventando l'ora Dennis! Che c'è? Eh, l'avevo visto Ah, forse ho capito dove mi avevi visto Mannaggia i miei capelli che mi fanno crudere Ma Cosa stai dicendo? È purcissia No, è la faccia che mi va Eh È la faccia che mi va davanti Sì, 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 sì Guardatelo qua Guardatelo qua Duniziani potrete vedere Tutte, tutte le cose qua Mamma mia Allora, scusate, però adesso voi mi dite dove caspita siete È come Io sono sotto Chi è che sta aprendo tutte le cose Chi è che sta aprendo tutte le cose Allora, non potete finire la mappa Ve lo dico Non potete finire la mappa Non la finiremo mai, cioè non so cosa funziona Mi manco Oh, non lo so, non lo so Però Ah Dai Mi sono addormentato Oh, questo gatto è inutile come Come La sua coda A cosa servono le code dei gatti? Eh Fare aria Sì Fare Sì, 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 sì Praticamente niente però Comunque Allora Adesso venite qua E poi I topi Le code dei topi A cosa servono invece? A essere mangiate dai gatti E questo sì che ha senso Che schifo, che schifo Sì Allora Pu lo dici a qualcun altro Perché io non sono mica Tua Tua madre O Tua sorella C'è veramente C'è veramente questa maleducazione Veramente Io boh Maleducazione? Allora Amici Io vi sto Vi sto Allora sentite Mi state rompendo le scatole Io mi sono No, mi sono rompendo le scatole di andare in giro E cercarvi perché Fate schifo Fate troppo schifo Mi spiace No, ma come funziona sta cosa? Ma in che senso? Quale cosa? Allora Noi siamo troppo Noi siamo giù Siamo giù Però non stiamo capendo State Ah, non state capendo Non state capendo Allora Cercate di non capire in silenzio per favore Le cose che dovete capire E parlate solo delle cose che possono capire tutti Ho capito Io ho capito Mi stanno pure Allora Oh, avete capito? Quello che vi ho detto io Invece di pensare solo al gioco Mannaggia vai Siamo in un cavolo di video Eh? Avete capito? Perfetto Eh, perfetto Sì Perfetto Era quello che ti meriti Perché stai pensando solo a giocare Fai te Invece siamo in un video Quindi dovete parlare Eh, stiamo parlando Dovete parlare Che capiscano tutti Ultima Cara Ultima volta che ve lo ripeto Allora Forza Angelo Infatti Se la riapri Allora vai dentro Vai dentro Vai subito dentro Ritorna subito dentro No Sì Sì Ecco bene Angelo Hai rotto le Hai rotto le scatole Chiaro Dai Il gatto si addormenta Che schifo Sto gatto Vuoi andare Ma cosa si prende Questo gatto Tutto il giorno Che sostanze Oh mio dio Troppo Troppe sostanze Comunque Io l'ho sempre saputo Che i gatti Hanno qualcosa Che non andavano E ora ho capito cosa Sì Anche i topi Però hanno qualcosa Che non vanno Vieni qua Stupido Allora Però Scusate Però se io dico Questa cosa Cioè Mi viene da non dirla Ora che ci penso Però scusate La modalità Eh Non è che si può fare qualcosa No alla modalità Questi topi Non è davanti Quindi Eh No eh no Mi spiace Mi spiace Mi spiace Io chi vedo Prendo Io chi vedo Prendo E guarda il gatto Come sta dando le mazzate Pum 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 Mi hai preso a me Eh infatti Ma perché tu Non so Sono troppo pro Sono troppo pro Eh sì Che schifo Chiara Una polpettia No 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 Vabbè Comunque Adesso cantiamo Cantiamo Gian Giuberto Alla musica di E ballo la musica di Gian Giuberto E ballo la musica di Gian Giuberto Un due tre Un due tre Proprio con questa voce Capito tunisiani Pure voi E ballo la musica di Gian Giuberto E ballo la musica di Gian Giuberto Un due tre Un due tre Sposta musica Eh Ah Eh sì 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 Allora Io ero su un programma no Che mi serve per fare le miniature di Minecraft In pratica stavo facendo ballare la skin di Angelo di Minecraft Tipo tutto quanto così no E ballo la musica E quindi avevo fatto un mini video che Se volete ve lo faccio vedere Però è un po' cringe Scrivetemelo nei commenti se lo volete No Eh sì 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 E molto E molto Eh sul discord dici Eh allora Venite Venite qua Allora Dunisiani Se volete Venite sul mio discord Perché vi faccio vedere Vi faccio vedere io Il video divertente E il discord ovviamente lo trovate giù in descrizione Questo gatto ha finito di dormire per favore grazie Allora A mettermi la scopa Scusate A mettertela nel sedere Eh dove sei Ehi Dove sei Dove sei Mannaggia Mannaggia io ti giuro Se non muori adesso Sclero Guardalo Guardalo là Ma poi parlate Cioè sto parlando praticamente solo io Mannaggia ai vostri sederi Ah 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 Vieni qua No non posso fare niente Comunque non dicevo a te Chiara Perché tu non c'eri nel video Però dicevo ad Angelo Cioè nel senso Quando non ci sei ovviamente non dovete parlare Però tu Angelo devi parlare Quando ti inseguo Mannaggia Sì sì ok parlo 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 Bene Bene Intanto non mi prendi Perché sei dentro Sei goffo Sei schifo Eh Dillo a A questa coda che ho Vabbè Comunque Ah Eccoti qua Vieni qua Dai No Fai schifo Dai però abbiamo Cioè scusa Ma abbiamo praticamente corso per nove minuti Senza concludere niente Bello questo video Molto bello devo dire Allora Come al mio solito no Ah Ah Che schifo finalmente Sì finalmente è arrivata la mia vendetta Oh Mi basta prendere Angelo Guarda tu Chiara puoi essere libera Puoi Sì Puoi andare a fare le tue cose in giro Veramente non mi interessa Puoi metterti la scopa nel sedere se vuoi Ma a me non interessa Perché Perché Allora Prima di tutto queste cose le posso dire solo io nei video Quindi evita Ma cosa Sì Poi Poi tu sei libera Quindi vai a morire No scherzo Scherzo Comunque Sì io sono morto Pure io Quindi ciao Io sono sopravvissuta Perfetto Perfetto Meno male 30% No io non compro niente Perché Kitty è sport No non è vero È molto bello come gioco No non mi piace No allora Che non ti piaccia È una cosa irrilevante Non ci serve saperlo nel video Infatti nessuno vuole saper la tua opinione Chiara Cioè veramente Chiara Chiara Vieni Vieni Allora Allora Questo angelo Che puzza Che non c'è ora Perché Boh Non si sa Comunque è ora un gatto Quindi Ah C'è di nuovo Comunque Allora tu Chiara Vieni qua Vieni qua Che sei qua sempre protetti Tu hai già fatto Hai già fatto Questo tipo di mappa No Eh ma ho fatto tutto angelo Non l'ho fatta io Ah ok Quindi allora dobbiamo andare in giro a cercare le cose Giusto Come su Piggy praticamente Sì sì C'è più bello Allora E questa cosa non la voglio sapere Grazie Allora dove No aiuta Che sta succedendo Mi sta inseguendo Ah ah Che peccato Ma scusa Io ho trovato una cosa di metallo per terra Quella serve per aprire la gabbia È tipo grigia No Eccoci Eh angelo vai via Sì Allora angelo Fatelo dire però Hai rotto le scatole Scusa ma la smetti Di essere così competitive Porca miseria Allora Tu sei competitive Tu non puoi Non riesci a perdere Ma fatelo dire così Nella vita Non andrai mai da nessuna parte Se non accetti la sconfitta Perché nella vita ci sono sconfitte Mannaggia te E questo lo dico a tutti i dunisiani Perché anche a voi Anche a te Chiara A tutti Nella vita ci sono sconfitte Bisogna accettarle Per forza Sì Bene Mi piace mi piace Vedi vedi Ad angelo piace a Chiara Visto che è No invidiosa Che ha comprato il server E adesso Il server di Piggy E adesso non ha anche Il server di Kitty Dice che è brutta Fate Comunque No è come dico io E quindi Grazie per aver guardato Questo video Dunisiani E se siete arrivati Fino a questo punto del video Come al solito Scrivete Kitty È bello In onore di Chiara Kitty è bello E quindi ci vediamo Al prossimo video Ciao anche al Procenesco Regione Ciao Che è Chiara Ciao 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 Ciao, ciao.